Noi siamo qui per il terzo anno di fila per proporre la nostra piattaforma per valorizzare il territorio e per offrire un'esperienza positiva agli utenti che fanno una ricarica di veicoli elettrici nel territorio. Siamo gli unici operatori di mobilità elettrica del Comune di Torino, abbiamo 20 postazioni da poco attivate e quindi ci sentiamo parte del territorio e vogliamo promuoverlo in maniera positiva e sostenibile. Siamo per l'abolizione delle tessere per i sistemi di ricarica, siamo l'unica società italiana che offre un sistema interoperabile con l'estero quindi qualsiasi utente estero che abbia anche la sua applicazione può venire in Italia e caricarsi alle stazioni che sono da noi collegate. Con la nostra app colleghiamo più di 20.000 stazioni in Europa con un unico sistema, è possibile pagare, autenticarsi direttamente dallo smartphone e quindi dimenticarsi di tutte queste tessere, punti, chiavette e cose di questo genere. Quella è l'agenda di Parigi, la mia provenienza oltre che essere automotive ho preso il master in Sustainability Management e quindi siamo molto attenti ai temi dello sviluppo sostenibile, infatti quello che facciamo è per lo sviluppo sostenibile del territorio. In particolar modo c'è l'11.4 e il 12.B che sono degli obiettivi che la comunità internazionale ha dato per lo sviluppo sostenibile. Quindi noi cerchiamo di aderire, di dare il nostro contributo per rispettare quelli che sono gli impegni delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Anche se siamo di Milano giochiamo in casa, noi siamo di Milano ma in casa non giochiamo mai a Milano perché in Lombardia purtroppo esistono delle regole, delle relazioni che non permettono, si dice sempre, nemo un profeta in patria, giochiamo in casa qui, giochiamo in casa anche nei territori delle Dolomiti e del Trentino Alto Adige. Comunque con il Comune di Torino stiamo avendo una bellissima relazione, ci hanno coinvolto in altri progetti per sviluppare una piattaforma di open data e di servizi intorno alle colonnine. Quindi quello che stiamo cercando di fare si vedrà probabilmente fra sei mesi, magari ci rivediamo a un prossimo evento.